Buongiorno, l'Associazione Abilimento Unita ha voluto organizzare questo triangolare dell'amicizia e sostenere il consigliere Foggia in questa magnifica iniziativa per promuovere l'aggregazione e l'inclusione sociale perché crediamo che siano le piccole cose che nasce l'aggregazione e l'inclusione. L'inclusione passa anche da andare a vedere una semplice partita o da andare a mangiare un gelato, al cinema, alle feste per questo organizziamo questi piccoli eventi. Oggi con noi ci sono l'Arba dei Carabiniere di Finanza, c'è la Casa dei Giovani, i ragazzi della Casa dei Giovani, ci sono i ragazzi di Borgata Costiere, ci sta appoggiando l'Associazione Sportiva Futura e siamo tutti insieme per festeggiare l'amicizia. Siamo stati invitati a partecipare a questa triangolare sportiva dal consigliere Foggia, dall'Associazione Abilmente Uniti e dall'Associazione Sportiva Futura di Costiera. Noi abbiamo apprezzato tantissimo l'invito, infatti siamo venuti immediatamente perché riteniamo questi incontri, e perché ce ne sono stati anche altri in passato, molto importanti per i nostri ragazzi. Uno perché è un modo per confrontarsi con altre realtà e poi perché gli consente anche di mettersi in discussione e di mettersi alla prova. Quindi per noi sono delle esperienze fondamentali all'interno di un percorso terapico, di abilitativo, qual è appunto la tossica dipendenza e spesso anche con le altre associazioni ci confrontiamo con realtà che loro magari non conoscono, che comunque in uno stato di alterazione dovuta alla sostanza non comprendono. Quindi siamo ben lieti, infatti loro stanno dimostrando anche di essere contenti di esserci giocando a tutta forza. Oggi qui a Burgata Costiera stiamo passando una giornata di sport sano. È stato organizzato questo triangolare all'insegnante dell'amicizia, grazie alla collaborazione dell'associazione Abilmento Uniti e dell'associazione Futura Costiera. Abbiamo tre compagini che li stanno sfidando con il massimo rispetto, ma con il massimo impegno. Abbiamo la squadra fatta da giocatori dei Carabinieri della Finanza, poi abbiamo una squadra della Borgata Costiera e la Casa dei Giovani. Un bellissimo torneo veramente all'insegna dello sport sano. Il nostro obiettivo era quello comunque di passare un pomeriggio conviviale, un pomeriggio di vero sport, ma soprattutto un pomeriggio all'insegno della solidarietà. Noi infatti stiamo trascorrendo una bellissima giornata insieme a questi ragazzi della Casa dei Giovani che spesso sono comunque abbandonati e che noi li stiamo facendo sentire gli attori principali della giornata. Grazie anche alle forze dell'ordine qui presenti e grazie anche a voi che comunque date la possibilità di documentare questo importante evento. Naturalmente oggi, come avete visto, il campo è stato preparato per l'evento. Devo ringraziare la Chira Ema che aveva messo a disposizione i colori per dipingere questo campo e devo ringraziare anche Tegiametta che ha messo a disposizione comunque il materiale per recuperare il terreno di gioco. Ringrazio poi tutti i presenti e naturalmente l'appuntamento è alla prossima festa del pane della pasta che tra pochi giorni sarà qui a Borgata Costiera. Grazie all'amico Foggia è stato organizzato questo torneo, questo triangolare, iniziato qua a Borgata Costiera. Noi insieme ai colleghi della Finanza, Carabinieri Finanza, abbiamo aderito a questa bellissima manifestazione dove partecipa anche il centro d'accoglienza di Casa dei Giovani. È Borgata Costiera. Sono contento di questo incontro di amicizia tra diversi gruppi che proprio a Costiera sono venuti a giocare. Grazie soprattutto a Ciccio Foggia che è l'iniziativa sua e penso che tutto andrà bene. Si crea così amicizia per stare insieme, quelle che dobbiamo imparare perché non sempre sappiamo e abbiamo capacità di stare insieme. Pallone unisce e sempre qualcuno deve vincere, qualcuno si deve rassegnare, ma sempre la gioia ci sta. Abbiamo vinto sempre.